Oggi andremo a dire la mia sui sorteggi degli ottavi dicembre di Champions League 2023-2024 Ottavi, scusate, spareggi di UEFA, spareggi di, spareggi, per andare agli ottavi di Europa League e Conference League 2023-2024 Andremo a dire la nostra, se volete andate a dire la vostra anche qui sotto nei commenti C'è la condivisione di campanellina, cose importantissime ma che voi ci mettete poco per farle Quindi fatele che vi costano poco, con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare rimanete a tornare sul canale a 360 gradi Quindi che aspettate, fatele se volete e ditemi la vostra qui sotto nei commenti I sorteggi di Conference League si fanno anche tra poco Quindi, quindi, eh, didiamo un po' la nostra reagendo in live Allora, prima però andiamo a commentare i sorteggi di Champions e Europa League Allora, Champions League Andiamo a vedere gli ottavi che sono stati sorteggiati Copenhagen, Manchester City Con tutto il rispetto per il Copenhagen, che comunque ha fatto un ottimo girone È stata una delle sorprese dei geni di Champions League Passata da seconda dietro al Bayern Monaco Ma il Manchester City farà una passeggiata di salute sia in Turchia che a casa propria E passerà il turno, purtroppo Ahimè Mi dispiacerebbe Anzi, sarei più contento se il Copenhagen passasse Però, eh, il City è troppo più forte Porto-Arsenal Porto-Arsenal non è una gara scontata Non è una gara scontata perché sono due squadre molto molto forti L'Arsenal sicuramente di più Per me sarà una bella partita Non è scontato il passaggio del turno dell'Arsenal Perché il Porto è comunque una squadra portoghese Che gioca molto molto bene E quindi ci sarà da divertirsi Assolutamente Ci sarà da divertirsi E secondo me possono uscire delle belle cose Questo video durerà anche parecchio Perché dobbiamo reagire ai giri di conference Ai playoff di conference qui in live Quindi Perché sono le 14.05 e ora sono cominciati Quindi Reagiremo in live ai giri di conference Li commenteremo in live Allora Poi Lipsia-Real Madrid Con tutto il rispetto per il Lipsia Che anche loro Ottimo girone Nulla da dire Però Vedo Vedo Il Real Madrid nettamente superiore Che farà una passeggiata di salute Sia in Germania Che a casa propria Che passerà il turno PSG-Real Sociedad PSG-Real Sociedad Non è una gara scontata Assolutamente Per me almeno Perché il PSG Non è che stia facendo Proprio bene bene Cioè è passato Come per il rotto della goffia Nel girone Solo perché Hanno ottenuto un pareggio Contro il Borussia Dortmund Per me non è scontato Per me non è scontato Però alla fin dei conti Sarà una bella gara Secondo me Combattuta Ma passerà Ma passerà il PSG La Real Sociedad Se la combatterà fino all'ultimo Ma purtroppo passerà il PSG Secondo me PSV Borussia Dortmund PSV Borussia Dortmund Non è una gara scontata Anche questa qui Il PSV sta facendo benissimo Nel campionato olandese Ha ottenuto 16 vittori su 16 Quindi sono una macchina da guerra Non si fermano più Sarà una bella gara Perché sono due squadre Che giocano a calcio E io vi dico A sorpresa Che passa il PSV Ve l'ho detto Come ultimo Le tre italiane Inter Atletico Madrid Eh È tosta È tosta Sicuramente Lì all'Inter È andata leggermente meglio Rispetto alle altre squadre Però È tosta Perché l'Atletico Madrid Nel Cielo Simeone È ribadito anche da È ribadito anche da Da Zanetti È una squadra Che le partite Non le molla Così come l'Inter Sarà una bella gara Bellissima Però Vi dico che passa l'Inter Vi dico che passa l'Inter Ha letto di tutto Io vi dico che passa l'Inter Per me l'Inter passerà Avrà la meglio Però è molto difficile Napoli-Barcellona Allora Il Barcellona Non è Non è più quello Quello degli anni passati Però È difficile È difficile Perché hanno giovani Importanti Stanno allestendo Una cantera Di quelle Pazzesche E quindi Non sarà per nulla Facile Però Per me Ce la possiamo Giocare E alla fine Sapete che vi dico Secondo me Passeremo Voglio buttare Seccia da solo Ma secondo me Passeremo Lazio-Bayern Monaco Ahimè La Lazio è stata La più sfortunata Tra Tra le italiane E non passa Con tutto L'impegno Che ci voglia mettere Ma il Bayern Monaco È troppo Per Forte Per me Non passa Per me La Lazio Non passa Per me La Lazio Sarà l'unica italiana A non passare Poi Spero di sbagliarmi Perché voglio Vedere tutte le italiane Più avanti Possibili In Europa Europa League Milan-Ren Per il Milan Secondo me È andata bene Perché il Ren Non è tutto Su squadrone Tutto su squadrone Incredibile Per me è andata bene Per me è andata bene Perché Il Ren Bisogna comunque Sare attenti Bisogna comunque Non sottovalutarli Però Poteva andare Sicuramente peggio C'erano Squadre più attrezzate E il Ren Secondo me Il Milan È stato molto fortunato E ha beccato La più Abbordabile Almeno per me Per me può passare Assolutamente Può passare E andare agli ottavi Di Europa League Galatasaray Sparta Praga Passa il Galatasaray Secondo me Shattardonez Marsiglia Gara molto 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 Curiosa Molto Curiosa Sono due squadre Che gioano a calcio La squadra di Rino Gattolo Gioca al calcio Lo Shattardonez Gioca anche a calcio Infatti Sì è scesa Dalla Champions Però con onore Vi dico che Passa il Marsiglia Feyenoord Roma Speriamo Non ci siano Casini Quando i tivosi Del Feyenoord Vadano a Roma Per me La Roma La Roma Allora Se la Roma Gioca come sta Giocando ora In questo periodo Non passa Però la Roma Credo Voglio avere fiducia E Vi dico che Secondo me Riuscirà ad avere Una ripresa E riuscirà a passare Poi Braga Carabag Braga Carabag Per me Passano i portoghesi Hanno già fatto vedere In Champions Di avere delle qualità Importanti E sicuramente Da non sottovalutare Per me Contro questo Carabag Comunque È una bella sorpresa Però Passano Passa 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 La Braga Benfica Tolosa Passa il Benfica Direi che sono Un pochino superiori Rispetto Rispetto a Una squadra Come il Tolosa Quindi passa il Benfica Young Boys Sporting Lisbona Passa lo sporting Lisbona Nonostante non sia facile Contro Young Boys Ma per me Passa lo sporting Lisbona Lenz Friburgo Lenz Friburgo Non è scontata Tutti dicono Che passare a Lenz Ma non è scontata Sono due squadre Che giocano a calcio Che sanno giocare a calcio Hanno tante qualità Vi dico che All'andata Finisce in pareggio Però Passa e Lenz Passa e Lenz Di corto muso Comunque Aspettando I gironi Di Conference League Aspettiamo un po' Vediamo questi playoff Di Conference League Vediamo un po' Ovviamente Negli Spareggi Conference League Non c'è nessuna italiana Non c'è nessuna italiana Quindi Perché La Fiorentina È già qualificata Matematicamente Agli ottavi E vediamo un po' Vediamo un po' Comunque vi ho detto Che questo video Durereà tanto Perché dovremmo Reagire ai Ai playoff Di Conference Primo spareggio Sturm Graz Sturm Graz Srovard Bratislava Secondo accoppiamento Servette Ludo Goretz Per me passano Sturm Graz E Ludo Goretz Mancano 6 gare Sturm Graz Srovard Bratislava E Servette Ludo Goretz Le prime due Terzo spareggio Union San Gilloise Francoforte Passa Passa Il Francoforte Passa Il Francoforte Sì Beh Fino ad ora Direi Gare scontate Sturm Graz Che passa Ludo Goretz Che passa E Francoforte Che passa Almeno per me Quarto spareggio Betis Siviglia Dinamo Zagabria Questa non è facile Da pronosticare Questa è tosta Questa è una bella gara Una bella gara Secondo me ci saranno Una marea di gol Passa Dai Passa La Dinamo Passa La Dinamo Zagabria Per me Subito Subito Facciamo Siamo già Quarto spareggio Un po' Quello che sta Sorteggiando I gironi Chi è La leggenda Del calcio greco Ex Roma Traianos Della Sa destrate Le pallie Dell'Urla Quinto accoppiamento O Limpiacos Fenecvaros Passa Limpiacos Sesto Spareggio Ajax Modoglimt Nonostante non sia scontata Passa L'Ajax Mancano le ultime due gare E possiamo chiudere qui Un video lunghissimo Comunque Potete Sottovalutarli Anche i sorteggi Dei playoff Di conferenze League Ma sono comunque Importanti Per scoprire L'avversario Della Fiorentina Agli ottavi Sono rimaste Ghent Legia Varsavia Maccabiha E Femmolde Ghent E Legia Varsavia Sono teste di serie Perché sono passate Prima nel proprio girone Maccabiha E Femmolde Non sono teste di serie Perché sono passate Ultime nel loro girone Sono passate Seconde nel loro girone Soccusate Vediamo un po' Quale sarà Questo settimo Ed ottavo Spareggio Maccabiha Femmolde Ghent Passa Il Ghent E legia Varsavia Molte Ciao ragazzi Ditemi la vostra